Suddividono l'aria in geometrie invisibili, orientano i passaggi delle nuvole e ascoltano la voce del vento. Le usiamo per accogliere, per lasciare entrare la luce e per guardare il mondo che ci circonda. A volte ci nascondiamo ed esse dividono, altre volte sono la cornice dei nostri paesaggi. Abbiamo imparato a guardare dal loro punto di vista, restando sempre uniti. Molti credono che una porta sia solo una porta e una finestra una finestra. Le persone meritano il meglio e noi siamo tranquilli che le nostre porte e finestre finiranno sempre in una buona casa. Cerioni, infissi e porte.